Per alcune settimane è stato un incubo, la strada provinciale di Botriolo, interrotta da una frana che l'ha resa impraticabile, riapre finalmente al traffico. A partire da venerdì prossimo, 19 aprile, l'arteria tornerà percorribile in senso unico alternato. Ad annunciarlo è stata la provincia di Arezzo che, quasi a tempo di record, è riuscita a risolvere il problema dovuto agli smottamenti che hanno colpito il Valdarlo alla fine di marzo, dopo eventi piovosi eccezionali. I residenti di Castelfranco di Sopra e Pianniscò in questo periodo di interruzione hanno dovuto scegliere percorsi alternativi più lunghi di diversi chilometri per tornare a casa, come il tratto Faella-Matassino-Filline oppure il foro di Faella-Monte-Alpero-Vaggio e Pianniscò. Visti i disagi sopportati dai cittadini, lo stesso sindaco di Castelfranco di Tapapi ha premuto l'ufficio tecnico provinciale affinché la riapertura avvenisse il prima possibile, nonostante il cambio di tracciato deciso sotto la frana principale. Lavori comunque completati velocemente grazie anche al tempo che ha retto affinché si potesse lavorare laddove si era creato uno smottamento. Il primo giorno della riapertura della provinciale di Botriolo controllerà il traffico una pattuglia dei vigili urbani di Castelfranco di Sopra.